Buongiorno! Buongiorno! Where are we going? Where are we going, Ali? Savona! Ma chi è? Savona! Finale Ligure! Finale Ligure! Letta taio! Da about 16.15 alle scone E! Sono le 6.25 Sentite i treni? Ce n'è uno che ci sta aspettando! Siamo partendo! Siamo partendo! See you later! Non hai più! No, no, no! Tu! Ma io voglio tornare a casa! Sila Moras! Due ore di viaggio! Due ore? Due ore e mezza! Due ore e mezza di viaggio! Da Milano Centrale! Poi si arriva a andare lì! Allora! Distanzo e mezza! Oltrevo allenamento, aensi! realise! Galla con il96 Poi ci vuol dire neanche! Quello nuovo che ti stai, Che giudizio! Ma una volta che ti скажo e la cosa Che ci dös! Che dà me c'è una cosa? E' oggi ... E' oggi .... Sì Z�на! ήςé tutto sottatoissements A pochi fatti in anima, in situazione originale di Ure, c'è il mare, seconda colazione, ma stavolta la facciamo il meglio, abbiamo ordinato cappuccino, un caffè ginseng macchiato, non è vero, cappuccino e due brioche, e due brioche, grazie, grazie, guarda bella brioche, mamma mia, guarda bella brioche, auguro, manca, guarda bella, RO vorrei, guarda bella difficile, stai guarda bella, cuyo è fattiglio, no no l'ho bloccato ha 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 si è rimasto sbloccato tutto il tempo put your sunscreen 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 sun sealed let's die we are trying to survive with this wind no it's ok I think she's hungry no 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 she's the instagram girl come on I hope I don't see my food no I don't need to make a video oh my god 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 Sì, sì, sì. ma è in rome si, mi piace ogni minuto del giorno e guarda questo ovviamente però siamo riusciti a prendere non inquadro ali perchè non vuole privacy però siamo riusciti a prendere le focacce il pesto e un souvenir come si dice? una calamita ecco e adesso siamo qua stiamo aspettando il treno dovrebbe arrivare fra dieci minuti siamo molto esauste ma molto 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 contenti spero che questo vlog vi piaccia mettete like e se non l'avete ancora fatto per favore subscribe e spero di fare altri viaggi anche di un giorno e niente se avete qualche curiosità, qualche domanda o qualsiasi altra cosa scrivetemi pure e commentate ciao appena visto il video dove vi saluto tutta felice e contenta dopo cinque minuti ho realizzato che ho scordato il mio ombrellone l'ho lasciato lì in quel bar l'ombrellone l'ho portato ok basta che non lo perdo per questo per questo dicevo cavoli c'è qualcosa che non va andava tutto bene oggi era tutto perfetto poi la seconda cosa è che abbiamo cambiato il treno perchè l'altro l'hanno cancellato quindi ci siamo trasferiti sull'altro binario e niente ce la faremo tornare a casa io ce la farò a rimanere felice perchè sono prestissimo adesso si vedrà vabbè adesso partiamo stiamo partendo di nuovo e niente ok l'ho vabbè l'ho degli att scribi e le l'ho no no ne alberto non roberto alberto scopo registrando adesso ma che idiota dimmi che sei idiota senza dimmi che sei idiota